bene ciao ragazzi e benvenuti a tutti in un nuovo video ragazzi oggi vedremo insieme quattro o anche cinque batterie lidio commerciali come questa questa è una batteria ragazzi venduta in set con carica batterie 36 volt e 500 watt 30 amperora ragazzi questa puoi montarla nel monopattino nella bici elettrica ovunque ti serva una 36 volt o meglio nel concreto è una 42 volt e infatti lo scrivono qui con celle 18 650 ragazzi tutte queste batterie eccole qui guarda hanno qualcosa in comune io ho selezionato solo queste perché poi onestamente mi sono mi sono davvero davvero rotto i maroni a leggere determinate bagianate e ho chiuso tutto e ho lasciato solo queste ragazzi queste sono delle truffe vere e proprie truffe che non capisco perché questi grandi e commerce online facciano andare avanti perché se voi andate ad aprirle perché sono tantissime qui c'è tutta la descrizione foto bellissime e ce ne sono eccole qui un milione guarda 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 ce ne sono davvero 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 tantissime e sono ragazzi tutte false perché perché ragazzi una batteria così piccola con queste dimensioni con 10 celle serie e quattro parallele parlando di 18 650 attenzione non può mai e puoi mai avere tutta questa capacità 30 ampere ora ragazzi sono tantissimo andiamo avanti questa 12 volt 50 ampere ora ragazzi ma stiamo scherzando cioè e sono prodotti che in tanti casi hanno feedback anche positivi qui vediamo due ordini e una 42 volt questa 20 ampere ora anche questa ragazzi impossibile 20 ampere ora con quattro celle parallele perché perché se non lo sai una cella 18 650 al massimo può diciamo contenere 3500 miliampere ora e queste celle le migliori per esempio ci sono leggi samsung sony e panasonic però ragazzi costano tantissimo è una batteria e con quattro celle parallele può massimo arrivare a 3535 fanno 7 e 714 massimo può avere 14 ampere ora montando le migliori batterie in commercio attenzione questi con quattro paralleli ti dicono che c'è 20 ampere ora o come abbiamo visto prima 50 ragazzi 50 ampere ora e quest'altra 30 ampere ora cioè sono tutte batterie false questa 100 mila miliampere ora cioè 100 ampere ora ma con che faccia questi vendono questo materiale questo feedback tutto positivo ma perché tutto positivo ragazzi attenzione perché i pacchi batterie nel concreto funzioneranno e ne sono certo che funzioneranno però se li vai a smontare e vai a misurare la reale capacità delle celle vedrai che non possono mai neanche essere lo 0,1 per cento di quanto loro vanno a scriverti i prezzi guarda i prezzi 44 109 che poi vedi ti vendono immondizia e di qua e 24 e 68 ti vendono immondizia che una volta vendevano a molto meno oggi hanno anche alzato i prezzi cioè qui con 109 euro ragazzi ti stanno dando una sola ma una è enorme ti stanno truffando alla grande forse è l'unica cosa che si può salvare forse il caricabatterie che c'è in dotazione andiamo ancora avanti questa è una piccola 12 volt da 20 ampere ora ragazzi 20 ampere ora con 6 celle totali che sono 3 s 2 p ragazzi cioè ma stiamo scherzando ragazzi cioè ritorniamo sempre a dire occhio a cosa acquistate quest'altra sempre una 36 volt 42 volt massimo guarda qui 77 euro 72 ampere ora oh ma dai state attenti a questi prodotti ovunque troviate batterie al litio prima di acquistare ragazzi fate attenzione se hai necessità di consulenza io sono a disposizione puoi contattarmi sia tramite la mia pagina ufficiale facebook o trialla sia tramite le mail sotto in descrizione troverai tutti i contatti sono a tua completa disposizione per consulenze mirate su pacchi batterie e tecnologia informatica micromobilità niente ragazzi per questo video è tutto ti ringrazio per la visione fammi sapere che cosa ne pensi di questi furfantoni cinesini ti lascio anche sotto in descrizione qualche link se vuoi andare a vederli e ciao e al prossimo video